Esiste naturalmente anche la finta bionda religiosa che dialoga con nostro Signore in privata solitudine. O Gesù, fammi il bel dono di una serva filippina. O Gesù, tu che sei buono, dammi un residence a cortina. O Gesù, tu che proteggi su dal cielo i miei bambini. Fa che boccino le leggi che ha proposto Vicentino. Sarò brava, onesta, retta, farò doni al terzo mondo. Ma tu dammi una villetta, mio Gesù, a porto rotonda. Se regalo alle sorelle della madre addolorata, la più giù che sei scassata. Lo ci mangi alle siscelle. Grazie.